Come ti rubano l'account social? Come fanno a fregare la tua identità online, a portarti via la pagina social aziendale che magari hai costruito con tanta fatica? Ma soprattutto come fai a difenderti da questi pericoli digitali? Tutti i tuoi clienti sono online sui social ed è inevitabile, devi attrezzarti per andare a prenderli. Oggi gli strumenti digitali sono di vitale importanza per aumentare il tuo fatturato e con i dati alla mano possiamo dire che la digitalizzazione ha un impatto positivo sulla vita aziendale. Già nel 2017 l'osservatorio Industria 4.0 del Politecnico di Milano ha evidenziato che la digitalizzazione permette un aumento della produttività del 25%. Cose bellissime, meravigliose, peccato che ogni nuovo strumento porta nuovi pericoli. Chiudersi in una stanza e bandire le nuove tecnologie non è la risposta, significa semplicemente velocizzare il fallimento. Per attirare i clienti e aumentare il tuo fatturato devi prendere il buono che la tecnologia ti porta e difenderti dal marcio, dalle persone che quella tecnologia la usano per farti del male. Quindi nella puntata di oggi vediamo i 5 pericoli più grandi e diffusi che puoi trovare online in questo senso. Vedrai che tutti i metodi per soffiarti l'account social riportano a un unico vero problema, una tendenza che l'intera umanità ha da sempre e sempre avrà. Proprio per questo le truffe online sono destinate ad aumentare a dismisura. Perché ti parlo di queste cose? Perché io sono Enrico Cecchini, il Sarto del Web. Il mio lavoro è aumentare il fatturato delle aziende grazie all'applicazione del metodo comunicazione su misura e questo è il canale del Sarto del Web. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, ti do il benvenuto in questa nuova puntata del Sarto. Oggi parliamo di pericoli online e di come difendere la tua pagina social aziendale. Stanno arrivando un sacco di messaggi ultimamente per pagine hackerate, soprattutto di meta, di Facebook e di Instagram. Questo è normale perché c'è stato un aggiornamento del business manager e chi è rimasto indietro a quello precedente è pieno di vulnerabilità, ma questo lo stiamo per vedere nel corso della puntata. Quindi arrivano messaggi del tipo, leggo, mi hanno hackerato Instagram e subito dopo Facebook mi ha bloccato la pagina. Un disastro. Oppure mi hanno bucato il sito e sono risaliti alla pagina social, dice Gianmarco. Oppure ancora mi hanno hackerato la pagina Facebook e non riesco più a fare sponsorizzate. E ancora e ancora. È normalissimo. Ora vediamo quali sono i 5 pericoli più grossi che puoi incontrare online e come in genere puoi difendere la tua pagina social aziendale. Prima di questo cerchiamo di capire come mai troviamo così tante truffe online. Il primo punto, il primo grandissimo vantaggio e problema, ok? Perché non esistono cose univoche che hanno una sola direzione, un solo significato. Il mondo è grigio. Abbraccia il grigio per aumentare il tuo fatturato. Posso farlo diventare uno spot. Il problema in questo caso, ragazzi, è la comodità. Ok? Uno dice ma com'è? È un problema? Sì, sì, assolutamente. La tecnologia rende comode un sacco di cose. Ok? Quindi l'era delle truffe è alla porta. Non è che in passato ce n'erano di più e ora sono calate o sono uguali. Non sono di più, ragazzi, le truffe oggi. Perché? Perché è più comodo farle. Com'è più comodo comprare online? Com'è più comodo parlare con... L'altra giorno stavo chattando con un amico che sta lavorando in Australia. Ok? Non mi ricordo solamente la regione. Cioè, a due passi da me. Com'è più comodo fare queste cose? È altrettanto comodo farsi truffare. Perché non ci sono confini, non ci sono barriere. Ok? E quindi sempre più persone abbracciano questo stile di vita, la truffa. Perché? Perché facciamo finta. Siamo 8 miliardi di esseri umani sul pianeta Terra ormai. Questo vuol dire che anche solo l'1%, che sono di più, ma facciamo finta solo l'1%, significa 80 milioni di truffatori che possono arrivare ovunque. Ok? Possono veramente in un istante derubare qualcuno dall'altra parte della faccia della Terra. Un mio cliente è stato fregato dalla gente in Vietnam. Ok? Più di 12.000 euro li hanno portato via. Perché? Perché ci vuole un istante. Perché questa comodità, come la comodità esiste per il truffatore, esiste anche per te. Tu ti appoggi a tutta una serie di strumenti estremamente comodi. Ok? Quando il mondo era più scomodo, era più difficile truffare persone. Perché per andare in banca devi alzarti. Alcune persone lo fanno tuttora alzarti, uscire, entrare nello sportello, entri nell'edificio banca, fai fatica a farti fregare. Oggi no. Puoi farlo online, può arrivarti una telefonata, puoi fare un click col cellulare e tutti i tuoi soldi vengono soffiati dal conto corrente. Stessa cosa per il tuo account social. A cui poi le truffe si sprecano da questo punto di vista. Quindi, iterazioni di chiamate. Per esempio, quando ti chiamano al cellulare tu vedi già chi è che ti sta chiamando. Può essere falsificato anche questo. Tutta una serie di strumenti, di meccanismi comodi a cui noi ci appoggiamo. Ok? Perché possono essere utilizzati contro di noi. Quindi il problema cardine di tutte queste situazioni scomode che si verificano è che ci appoggiamo troppo alla comodità. È diventato comodo truffare e appoggiarsi troppo alla comodità ci rende vulnerabili, ok, a questo tipo di problema, a questo pericolo. Non dimentichiamoci però che la comodità è il principale motore del mercato. Cioè non è che è solo un male. È il motivo per cui la gente compra. Cioè la gente vuole risolvere un problema che sia non lo voglio di cucinare stasera, che sia voglio arrivare a Timbuktu, che sia voglio la casa di miei sogni e paga qualcun altro. Ok? Perché devo pagare la gente immobiliare se posso cercarmi la casa da solo? Perché devo pagare la persona, la concessionaria, se posso andare dalla casa madre della Mercedes a comprarmi una macchina che desidero? No, noi compriamo comodità in tutte le sue sfaccettature. Quindi come è un pericolo è anche il motore del mercato, il focus su cui devi concentrare la tua azienda, rendere comoda la transazione per il tuo cliente finale. Questo ovviamente a pro e contro, possiamo capirlo tranquillamente anche da soli. Molto bene, capito qual è il problema che porta così tante aziende a farsi infinocchiare e a farsi privare della propria pagina social aziendale, vediamo un po' il secondo punto che voglio spiegarti oggi. Perché non puoi assolutamente rigettare la tecnologia? Ok? Vedo tantissime persone, possiamo dire, sovralimentate di cattive informazioni, di spunti negativi e quindi reagire buttando via. Ok? Chiudendo tutto. Ok, perfetto, queste cose non mi interessano. Chiudiamole, non le voglio perché sono pericolose. Non le posso gestire. Ok? Questa, ragazzi, è la strada per il fallimento. Come dire? Non voglio una macchina perché potrei fare un incidente. Voglio il cavallo. Ok, va bene. È legale. Puoi continuare ad andare in giro a cavallo. C'è in America, ci sono i cowboy che vanno in giro a cavallo. Possiamo farlo anche qui in Italia. Peccato che magari con la macchina vai più velocemente in maniera più sicura. Ha i suoi pericoli e ha i suoi vantaggi. Ok? Tutte le nuove tecnologie portano un problema perché non siamo abituati a usarle, non siamo abituati a verificare, ad analizzare quello che ci danno e che comportano. Ok? Quindi una persona può reagire dicendo ok, io non voglio l'home banking, io non voglio la carta di credito, ho visto persone che dicono anche questo. Io non voglio pagamenti rapidi come Paypal, come Stripe, tutti i sistemi. Ok, puoi dirlo, ma questo è un freno autofatturato. Questo è un modo per dire no a un sacco di clienti, a un sacco di soldi. Ok? Vuoi vedere con te otto benefici della digitalizzazione che sono venuti fuori da una serie di studi dell'osservatorio Industria 4.0 del Politecnico di Milano. Ok, il primo beneficio della digitalizzazione, lo dico in tutte le mie puntate ormai da anni, non mi stanco mai ragazzi, è incrementare le vendite. La digitalizzazione, il digitale, l'online, è uno strumento che ti permette di bucare la bolla in cui rinchiusa la tua azienda, le poche persone che conoscono te, il tuo prodotto o servizio, e ti permette di raggiungere persone in più a un costo minore rispetto agli altri sistemi. Punto, ragazzi, questo è il primo beneficio della digitalizzazione e potrei già chiudere qua, ci ho fondato sopra un'azienda, ma ce ne sono altri 7 che voglio portare alla tua attenzione. Il secondo è la semplificazione dei processi. Ci sono tantissimi processi nella tua azienda che vengono fatti in un certo modo e se tu infilassi un po' di digitalizzazione, ok, nel modo in cui fare le cose verrebbero semplificati con un enorme risparmio di tempo e risorse e stress mentale, ok. Questo richiede una maturità, una certa maturità da parte ovviamente dell'azienda. Però ti faccio un esempio proprio così, subito lampante, l'amministrazione. Io so di tantissime persone che continuano a gestire l'amministrazione con o i fogli o i file Excel. Ragazzi, con un software, certe cose che richiedono ore possono essere fatte in minuti, ok, con un enorme risparmio di tempo e la possibilità di usare le risorse che già stai pagando, tipo dipendente o cose del genere, o te stesso, o te stessa, in cose più importanti, ok. Ma andiamo veloci. Il terzo beneficio della digitalizzazione è l'incremento della produttività, un qualcosa che uno dice, ma come può essere? Eppure sì, è uno di quelli più percepibili perché ti rendi conto che puoi fare di più con lo stesso sforzo, ok? Sempre utilizzando strumenti che vanno a togliere pezzi di tempo, togliere pezzi di fatica, fanno capire quali sono gli sprechi. Per esempio, il quarto beneficio della digitalizzazione è la riduzione dei costi, perché ovviamente quando smetti di sprecare cose, non le paghi più. Cioè sono risorse in cui non butti più soldi. E qui poi si va in cose un pochino più elevate, che è più difficile capire, ma ti assicuro che quando continui ad andare avanti nella digitalizzazione della tua azienda, comprendi che al quinto posto c'è l'innovazione e il lancio di nuovi prodotti. La digitalizzazione ti permette di capire come migliorare il tuo prodotto o servizio e quindi puoi lanciarlo sul tuo pubblico per avere più clienti di prima. Oppure, il sesto punto, acquisizione di nuove competenze. Ok? Scoprire cosa puoi aggiungere come competenze alla tua azienda che ti svolta, ok, il fatturato ti svolta, il modo di lavorare, quel qualcosa in più che non sapevi ora che lo sai, perfetto, possiamo andare avanti in maniera più sciolta, con molta più facilità. Oppure, il settimo, engagement della forza lavoro. Ragazzi, un'azienda digitalizzata, un'azienda che sta bene, un'azienda che va alla grande, è un'azienda che attira migliori dipendenti. E in ultimo, la flessibilizzazione del lavoro. All'ottavo punto, dei benefici della digitalizzazione. Ragazzi, sono veramente, il futuro sta lì. Ovviamente, bisogna sempre avere le mani in pasta, sempre avere le mani nella malta, come piace dire alcuni imprenditori. Quindi, sempre fare il prodotto o servizio, ma lo si può fare meglio, migliorando, sistemando le cose collaterali, ok, che stiamo facendo sempre nello stesso modo, ma possiamo farle meglio e avere un miglior risultato. Quindi veniamo al punto, al fulcro, al piatto forte della puntata di oggi. I pericoli più comuni che puoi trovare online. Ho fatto una lista di 5 punti che voglio discutere assolutamente con te. Il primo, il primo modo in cui ti soffiano, se vengono soffiate una marea, una marea di account social, sono le mail finte, ok? Sono un pericolo enorme, gigantesco, da sotto un sacco di punti di vista. Ti faccio un esempio enorme, in maniera che possiamo capire un pochettino di cosa stiamo parlando. Ti racconto la storia di Evaldas Rimasaukas, un lituano, ok? Non tenterò di pronunciare meglio il suo nome. Sta persona ha aperto una serie di aziende fra la Lituania e Cipro e ha fregato Facebook e Google semplicemente mandando delle mail. Ma non fregato così tanto per dire, no, no, ha fregato 23 milioni di dollari a Facebook e 99 milioni di dollari a Google per un totale di 120 milioni di dollari che ha soffiato a queste aziende americane, ok? Semplicemente mandando mail. Cosa faceva? mandava delle mail ai dipendenti di queste aziende fingendosi un'azienda fornitrice, ok? I dipendenti pagavano perché nel mittente della mail leggevano un qualcosa di finto, perché nella mail presentava anche documenti falsi sempre via mail. Ragazzi, 120 milioni di dollari presi, non sono bruscoline e non sono neanche aziende stupide, non sono neanche gli ultimi coglioni della lista, no? Facebook e Google, uno si penserebbe che possano essere delle grandi aziende ben strutturate e protette, no? Ne hanno fottuto 120 milioni di dollari. Quindi vedi quanto è pericolo. Poi l'hanno preso ovviamente questo, è il Valdas e l'hanno messo in galera, ovviamente l'hanno estradato, appena l'hanno entrato l'hanno estradato. Però, per farti un esempio di una mail che è arrivata al laboratorio dei sarti del web, mi arriva una mail con scritto, avviso, violazione delle norme pubblicitarie di Facebook, due punti, azione richiesta. Già che nel titolo ci sono due punti, due punti, vuol dire che qualcuno ha scritto male la mail e questo è già il primo segnale che la mail è finta. Il titolo scritto male, ma andiamo avanti. Ciao i sarti del web, stiamo spiacendo di informarti che hai violato le norme pubblicitarie di Facebook, ok? E io già qua capisco che è una mail finta, perché ciao i sarti del web non ha nessun senso, il mio account pubblicitario non si chiama i sarti del web, il mio business manager non si chiama i sarti del web, la pagina sì, ma perché dovrebbe mandarmi una mail con il titolo della pagina se la risorsa collegata a un nome diverso? Poi l'ho fatto apposta, mangio pane e volpe al mattino, chiamo le risorse in maniera diversa così da non confondermi quando arriva una comunicazione o c'è un problema. Perché si chiama tutto quanto uguale, poi mi confondo e sono scemo io. Per esempio il mittente della pagina è 0-21-UNF2AZ5, un nome improbabile infinito lunghissimo. No ragazzi, il mittente è sbagliato, è chiaramente spam, è chiaramente una mail finta. Ma se io non sono pronto a questa cosa, se io non mi rendo conto che può esserci questo problema, non lo so, non sono pronto, non sono preparato, non sono formato, è ovvio che clicco sul link, arriva giù un file Trojan o una backdoor o un qualsiasi, sto preparando una risorsa, si chiamerà i 7 modi più uno in cui ti soffiano l'account social, sarà proprio un pdf scaricabile, quindi vai nel link in descrizione, lascia la tua mail nella newsletter, ok? Perché sarà scaricabile sulla sardoteca e intanto lo inviamo a tutta la rete. È proprio un file che devi scaricare, stampare, incollare in ufficio, far leggere ai tuoi dipendenti, sono proprio tutti i modi più tecnici in cui possono soffiarti l'account. E' un file a sé, molto lungo, non volevo tirarlo fuori nella puntata perché poi durerebbe all'infinito e se terrei qua per ora a parlare di sicurezza informatica, non è mia intenzione. Quindi le mail finte, le mail che arrivano da mittenti falsi e che magari fingono di essere quella persona o quell'altra, in realtà non lo sono, sono la principale causa delle pagine social hackerate. Quindi devi stare attento quando arriva una mail, ok? Da chi sta arrivando? Ok? Il mittente c'è davvero o non c'è davvero? È scritta bene perché ragazzi sono mail scritte dall'intelligenza artificiale, sono mail scritte in automatico o tradotte in automatico, quindi magari c'è l'errore ortografico. L'errore ortografico in genere significa che è finta, ok? Perché una persona la guarda due o tre volte, oppure se ti stai scrivendo con una persona che non sa scrivere, ma quelli sono cacchi tuoi, gli mandiamo la penna rossa che li mena. Quindi, perfetto, il primo metodo per fregarti sono le mail finte. Tu clicchi sul link, clicchi sull'allegato e ti sei fottuto fondamentalmente il pc, il cellulare, gli account, tutto quello che avevi. Evitiamo, facciamo una grandissima attenzione. Il secondo pericolo con cui ti soffrono l'account social e più in generale ti creano grossi danni online sono i sistemi antiquati. Per esempio, c'è stato il passaggio attualmente del business manager di Facebook a un'altra tipologia, fondamentalmente non sto entrando nel tecnico, di business manager. Tutti quelli che non hanno fatto il passaggio o l'hanno fatto male si sono visti soffiare l'account social. Adesso ha un sacco di pagine con tantissimi follower. Poi vai tu a richiedere all'assistenza di ridarti la pagina, devi dimostrare che sei tu, devi dimostrare che ti hanno soffiato, sono cose brigose, lunghe, faticose e queste sono aziende, Meta, LinkedIn, TikTok, eccetera, sono aziende che hanno milioni, miliardi di utenti, quindi devono seguirle tutti e possono metterci del tempo e non riuscirci mai. Ti faccio un esempio su un sito internet. Una cosa che è successa al laboratorio qualche giorno fa, ho fatto lo screen perché ho detto questo, poteva essere utile per una puntata. Sulla chat Whatsapp Sartiroc, che chiamava Sartiroc, c'è anche la mia immagine come loghino, è una chat per la discussione, per le cose importanti e urgenti. Ok, Umberto ha condiviso il fatto che il sito di un cliente è stato hackerato, è stato buccato con un malware cinese. E poi sottolinea, questo sito comunque non lo stiamo gestendo noi, però la cliente a questo problema ce l'ha fatto sapere. Leonardo, che fa parte del team tecnico, bravissimo, ha subito chiesto che lo bonifichiamo noi, tempo un minuto, era già lì che scriveva, ci pensiamo noi, e Umberto dice, boh, vedi tu, c'è modo di salvarlo, avevamo i dati, siamo entrati nel sito, tempo, quando è che ha scritto Umberto, 10.56 alle 11.03, ok, quindi manco quanto sono, neanche 10 minuti meno, Leonardo ha trovato il problema, è entrato e ha detto perfetto, il sito non viene aggiornato da almeno 6-7 mesi. Ok, questo è un grandissimo problema di un sacco, un sacco di aziende. Fanno il sito, hanno la piattaforma e poi non si preoccupano di aggiornarla. Ragazzi, cosa succede? Succede che i sistemi si aggiornano, Facebook è in aggiornamento continuo, Instagram è in aggiornamento continuo, LinkedIn, ok, Twitter, TikTok, tutti, YouTube, ok, perché? Perché vogliono intanto dare sempre un miglior servizio all'utente, ma si proteggono da questi problemi. Se tu nel frattempo non aggiorni quello che è il tuo sistema, è ovvio che rimani alla versione obsoleta, che ha dei buchi e gli hacker lo sanno e li provano in continuazione. È il modo per esempio in cui hanno fottuto, mi sembra di ricordare, il sistema sanitario nazionale del Lazio, ok, tutta la regione Lazio, sia per una serie di mail, sia per una serie di buchi che aveva la loro piattaforma. Questo significa che sei sempre in pericolo se non ti aggiorni costantemente con quello che è tutto il tuo ecosistema di contenuti e di piattaforme online, che sia un social o che sia il tuo sito. Vuoi che qualcuno se ne occupi? Ti serve una squadra, qualcuno che lo sa fare. Quindi vai su www.isart.it slash tutor, prenota una consulenza con uno dei nostri esperti che ti spiegherà che cosa significa avere al tuo fianco degli specialisti che sanno di cosa si sta parlando, sanno cosa sono questi strumenti, sanno come si utilizzano, come si mettono in campo, qual è il modo migliore per te per raggiungere il tuo obiettivo nella totale sicurezza, ok? Molto bene. Vediamo al terzo pericolo che ho riscontrato, volevo metterlo come primo ma sono stato bravo, sono andato più sulla statistica. Il terzo pericolo che puoi riscontrare online è uno staff non preparato, il tuo staff, le persone che lavorano con te, le persone che ti porti dietro e che possono rivelarsi una grossissima vulnerabilità, ok? Perché la resistenza di una catena viene data dall'anello più debole. Ti faccio l'esempio di un mio cliente. Insomma, era andato a fare, abbiamo ottenuto su, tutta una catena di acquisizioni clienti online, perfetto, tutto fatto perfetto, vado a fare formazione alle risorse interne, nello specifico c'era sto ragazzo appena arrivato, uscito da una università che doveva insegnargli a fare il mio lavoro, non lo sapeva fare, quindi vado lì a fargli formazione. Prima cosa che gli ho detto è, ciao Luca, attenzione, fai questo, questo e questo, poi fai questo e quest'altro, altrimenti siamo vulnerabili nel sistema. Sì, 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 non l'ha fatto, non l'ha fatto, ha cliccato su qualche sito strano, su qualche allegato particolare, quella notte, ok, che ha fatto la cazzata, una pagina vietnamita ha bucato l'account pubblicitario del cliente, fottendogli 12.000 euro e 500, una roba del genere, ok, più di 12.000 euro in sponsorizzate, ok, in una notte, una bruciata terrificante, ovviamente il cliente incazzato come una pantera, per fortuna c'era tutto tracciato, quindi potevo capire da dove era venuto il problema, è venuto da lì, ok, non sono stato io, intanto perché se sono io che bruci tu bruci 12.000 euro, poi mi tocca ridarteli, è un problema per me, ovviamente, ma io non lo faccio, quindi, visto che il cliente aveva dei problemi, ci siamo offerti, abbiamo fatto rientrare la questione nel sistema di rimborso di meta per le truffe su meta, quindi nel giro di 6 mesi il cliente ha riavuto indietro tutti i soldi, ok, quindi il cliente ha riavuto tutti i soldi indietro, ah, perfetto, nessun problema, eh, intanto a me mi ha rotto molto le palle, il cliente ha avuto dei problemi poi con le pagine, ha voluto rifare, rifare l'account, quello che aveva bruciato, è stato un fastidio, ok, quindi se si evitava di far la cazzata, cioè questo dipendente che tuttora lavora lì perché è un dipendente e il titolare penso che gli farà altri danni, ma cosa vuoi che sia, se evitavamo di lasciare questa vulnerabilità aperta, ok, qual era il problema? Lo staff non preparato, lo staff che non segue gli ordini, che non fa le cose, una cosa importantissima che devono fare tutte le persone che hanno a che fare con te, con la tua comunicazione online, è per esempio l'autenticazione a due fattori, ok, cos'è l'autenticazione a due fattori? E tu quando entri andavi solo a mettere mail e password oppure numero di telefono, devi mettere anche un messaggio, per esempio un sms che devi inserire il codice che ti è stato inviato, ok, così ci sono due fattori per autenticarsi, per entrare nella pagina, se qualcuno ti frega il codice per entrare, poi magari non può fregarti anche l'altro mezzo, ok, se è proprio un hacker bravo, 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 riesci a fregarti anche quello, ma lì sono soldi che fioccano da tutte le parti, quindi diciamo che non è sicuramente il tuo problema, visto che non pensi che tu abbia un budget superiore ai 10 o 15 milioni di euro, ok, perfetto. Quindi l'autenticazione dei due fattori devi farla tu e devi farla tutte le persone che hanno a che fare con te, perché altrimenti sei vulnerabile, ok? Arrivano messaggi finti alla pagina, come queste cose veramente da far ridere, questa Gladys, poi abbiamo fatto lo screen a un messaggio creato sulla pagina dei Sarti che scrive rimuove immediatamente questa immagine a Facebook perché ci riguardano e poi ci linka un file RAR, cioè un file ZIP che dovrai scaricare per guardare quale è l'immagine incriminata, ovviamente è un virus, ovvio, perché dovrei mandarmi un file ZIP? Perché sta cercando di mettermi un virus nel computer o nel cellulare e non clicco e qui, semplicemente mando in spam il messaggio e siamo tutti contenti, ma se lo staff non è preparato non lo fa, ci clicca su quel messaggio e tu sei fottuto. Quindi andiamo al quarto enorme, terrificante, ma esilarante pericolo che troviamo online, le password troppo facili, le password troppo semplici, io ho fatto questa ricerca, mi sono messo le mani nei capelli, me ne sono strappati a ciuffi, sai quella è la password più utilizzata in Italia? 1, 2, 3, 4, 5. La password più utilizzata in Italia, in Colombia, in Francia, in Giappone, è 1, 2, 3, 4, 5. Cioè, roba è da mettere, veramente. La seconda password più utilizzata sempre in Italia è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, quindi semplicemente l'idiozia numero 1 replicata e allungata. Ok, ora non mi va di dare dell'idiota a nessuno. È sempre il discorso della comodità, ragazzi. Ci stiamo appoggiando troppo alla comodità. Vogliamo password più comode, perché per esempio il terzo posto della password più utilizzata è password, che è quella più utilizzata in tutto il mondo. Cioè, in tutto il mondo la password più utilizzata è password. Dimmi te. Oppure la quarta in Italia è ciao. La quinta è Juventus. Cioè, la gente usa ciao come password, usa il nome della squadra del cuore, Juventus. C'è anche Napoli fra le prime 20 password più utilizzate in Italia. Oppure tipo, qual'era Martina, Giulia, Francesca. Cioè, è una ricerca dello studio di Nordpess, che proprio ha fatto uno studio su questa cosa e ha detto, ragazzi, occhio perché è facile rubarvi la password in Italia. Perché? Perché cerchiamo password comode che possiamo ricordarci. Ma in questo modo non possiamo lamentarci se si soffia un account social. Cioè, tu magari fai un account social aziendale con mille, diecimila, centomila, cinquecentomila persone che ti seguono, un milione di persone che ti seguono, che compran da te, che vedono i tuoi prodotti e servizi, che ti chiedono informazioni, eccetera, eccetera. E poi, visto che hai messo la password, uno, due, tre, quattro, cinque, o anche il nome di tuo figlio, la data di nascita di tuo figlio, di tua moglie, eccetera. Ragazzi, è tutte cose semplici che mi basta fare una ricerchina di pochi minuti sulla tua vita e scopro. Cioè, le scopro io, che sono il sarto e non è il mio lavoro rubarti i dati. Uno che lo fa di lavoro, uno in tutto il mondo, poi capito? Magari è uno specialista russo, o ucraino, o americano, o canadese, o anche di Roma, o di Napoli, di Milano, che cacchio ne so, ti prende di mira e lo scopre. Un giorno, una settimana, un mese, ti soffia tutto. Come possiamo proteggerci da questo quarto pericolo? Numero uno, crea password lunghe. Password lunghe e difficili da tirare fuori. Perché, per esempio, se io metto ok? Parole a caso, con numeri e punti esclamativi, una tastiera, parentesi, barre, graffe, eccetera, va là che non la scoprono. Le mie mail più utilizzate, quelle più calde, subiscono anche cento attacchi al giorno, ok? Da paesi in giro per il mondo, anche cento attacchi al giorno, ok? Di gente che cerca di penetrarci. mette... e come c'è per penetrarci? Mettendo password a caso, studiando la mia vita, ok? Quindi, come mi chiamo io, come si chiamano i miei gatti, come si chiamano quando sono nato, quando è nata la mia compagna, eccetera, eccetera. Hanno voglia di farlo, non sono quelle dei miei password. Ma che io lo so, è il mio lavoro. Anche tu adesso lo sai. Secondo modo, per proteggerti da questo pericolo, evita di riutilizzare la stessa password per cose differenti. Perché se ti bucano un profilo e trovano quella password, poi quella la provano per tutti gli altri profili. Magari è l'altro password su Facebook, la provano su Instagram, su LinkedIn, su TikTok, ok? E se è la stessa, brum, viene giù tutta catena. E tu hai perso tutto. Hai perso quel canale di acquisizione clienti costante che avevi costruito online grazie ai Sartidwell, per esempio. E noi diciamo, cacchio, cosa facciamo? Poi noi abbiamo i sistemi per mettere a posto tutto, perché apriamo all'istante una nuova pagina, ripartiamo con tutto, ti forniamo un nuovo account pubblicitario. Cioè, i sistemi per risolvere questa cosa li abbiamo. Noi, te da solo o da sola, non penso. Anche le web agi si fuffano, altano le mani, dicono, non è la nostra responsabilità e dicono, continua a pagarci perché il contratto dice di pagarci. Questo è quello che fanno le web agi si fuffa in generale. Ultimo consiglio che ti do per risolvere questo problema, usa un password manager, ok? Sono sistemi, a volte anche gratuiti, perché Google, per esempio, gli dà gratuitamente e sono migliori sicuramente di scriverli su un foglietto e appiccicarli sul computer, cose che ho visto in alcuni uffici. Gente che si fa il selfie in ufficio e in questo selfie c'è scritta la password perché è sullo schermo, c'è roba veramente che dovrei spaccarti lo schermo in testa, mi sto alterando, perché non si capisce quanto sia difficile, quanto sia pericolosa questa cosa, perché si è convinti che le cose più importanti siano quelle fisiche. Certo, quando poi scopri che il fatto rotto che fai online è moltiplicazione di quello che fai offline, va da che la musica cambia, però dobbiamo anche proteggerci da questi modi di fare. E infine veniamo al pericolo numero 5, che è quello che sinceramente sento più forte e importante. la disattenzione. Essere disattenti, abbassare la guardia, abbassare la soglia della tua attenzione critica sulle cose. Faccio un esempio, mi arriva un messaggio finto sulla pagina da un account che si chiama page verification support, quindi supporta la verificazione delle pagine. e come logo ha il logo di Facebook. C'è come avatar, come immagine della pagina. E poi cerchi di toccare amministratore, il tuo account verrà disattivato, perché la tua attività su di essa non è conforme ai nostri termini di utilizzo. Per verificare il tuo account, clicca su questo link. Se io sono disattento, cosa fa il mio cervello? Perché noi abbiamo due sistemi nel cervello. Il cervello lento e il cervello rapido. Il cervello rapido è quello più animale, quello più rapido, quello più veloce, che reagisce distinto. Quello lento è quello più intelligente, è quello che ci ha fatto costruire città, costruire imperi. Non esiste un'azienda che fattura tanti soldi che si basa sul cervello veloce. Si basano tutte su decisioni fatte col cervello lento. Ok? Perfetto. Quindi cosa succede? Se sono disattento e dico ok, Facebook mi ha mandato questa comunicazione, clicco. Cioè, è anche lo stesso metodo con cui funzionano le mail finte. Cioè, mi arriva una mail da Amazon, dice hai vinto un buono Amazon, clicca qui. Mi arriva una mail dall'Inps e dice clicca qua per mettere i tuoi dati perché stanno per chiuderti, hai un problema con la pensione. E tu clicchi, perché avendo una scarsa attenzione non ti sei accorto che Inps è scritto male. Cioè, giuro, la gente arriva la mail con scritto Inps male, ok, con la MLN scambiate, e la gente clicca lo stesso. Perché? Perché siamo disattenti, perché vogliamo la comodità. E la comodità significa non fare fatica. l'attenzione richiede fatica. Ok? Quindi, significa che tutto quello che io ti posso dire si riassume in questo. Se tu alzi la tua soglia di attenzione, alzi l'energia che impieghi su queste cose, non ti frega nessuno. Non ti frega nessuno perché hai un livello di difesa e questa gente non può passare. Ma devi comprendere. Intanto la gravità del farti rubare la pagina social, quali sono gli strumenti, li metti a protocollo, che ti farli tu, ti devono fare tutti i tuoi dipendenti. E ve ne è fatto, punto. Esattamente come quando uno dice, ok, la saracinesca del negozio è aperta e chiusa. Hai dato due giri di chiave, hai messo il lucchetto. Sono cose normalissime. Ok, se hai un negozio fronte strada, se hai un ufficio, stessa cosa se hai un magazzino. Ok, perfetto. Quando per esempio la gente che fa il lavoro in edilizia va via, in genere prendono tutte le cose più costose, le mettono in una carriola, la carriola viene appesa alla gru e la gru tira su a 50 metri la carriola con le cose più costose. Così non mi freghi niente. Ho una cliente che ha dei cantieri in Senegal, è tornata dalle vacanze e le hanno rubato un sacco di roba. Perché? Perché in Senegal non ci sono sistemi di sicurezza, eccetera, eccetera, grazie al Pifron. Perfetto. Sono cose che possono succedere, devi sapere cosa fare per non farle succedere e se un fatturato più alto significa anche più attenzione, poi puoi pagare persone che l'attenzione la mettono per te. Capisci? Cioè è tutto un cerchio, è tutto un modo di migliorare quella che è la tua vita aziendale ma soprattutto che ne valga la pena. Cioè deve valere la pena di fare questa fatica. Se non c'è un aumento di fatturato non ne vale la pena, ovviamente, tanto vale rimanere una piccola bottega di periferia e accontentarsi di far campare la famiglia. Ok, quindi questa è la scelta di 19 aziende italiane su 20. Io piuttosto mi sparo, piuttosto che farò una vita del genere, ma questa è la vita di 19 aziende su 20. Quindi io sto parlando a poche persone, a una persona su 20 che desiderano di più, ok? Che magari lo stanno raggiungendo, che fanno fatica, che desiderano avere di più da quello che stanno facendo. E qui si può avere, grazie alla digitalizzazione, abbiamo visto 8 miglioramenti meravigliosi che può darti il mondo digitale alla tua azienda. Questo comporta però dei pericoli. Questi pericoli vengono risolti semplicemente con un investimento di attenzione e magari di sistemi di sicurezza, come può essere un buon antivirus, un buon firewall nel tuo wifi, eccetera, eccetera. tutta una serie di cose di cui possiamo tranquillamente parlare andando su www.sart.it slash tutor, compili il form, prenoti una chiamata con uno dei miei esperti che ti darà tutte le informazioni necessarie, tutti gli strumenti per arrivare dove vuoi arrivare grazie al mondo online, alla comunicazione su misura applicata alla tua azienda. Molto bene, grazie per aver seguito sin qui. Fammi sapere se potevo approfondire un qualche punto rispetto all'altro. se ti è capitato di farti bucare la pagina o che qualcuno abbia cercato di rubarti la pagina, mi raccomando, clicca sul link qui sotto e iscriviti alla newsletter, così quando viene preparato il file il 7 modi più uno con cui ti soffiano all'account social, ti arriva direttamente nella tua casella mail da eSart del web, certificato verificato Enrico Cecchini. Molto bene, ti ringrazio per avermi seguito sin qua. Io sono Enrico Cecchini, ho fondato eSart del web, ci occupiamo di aumentare il fatturato dell'azienda grazie all'applicazione del metodo Comunicazione su misura. Vuoi leggere qualcosa in più su di noi? Ci trovi sui site.it, ma anche sul social, chiusi più spesso e sui maggiori canali di podcast. Detto questo, ti auguro buona giornata, buon lavoro e buona comunicazione online al sicuro. Ciao!